8 gennaio 1942, nasce ad Oxford Stephen William Hawking, matematico, fisico e cosmologo inglese, noto per l'importanza delle sue ricerche nei campi della teoria cosmologica e della gravità quantistica. Sebbene immobilizzato dall'atrofia muscolare progressiva, Hawking occupa per 30 anni la cattedra lucasiana di matematica all'università di Cambridge e si conquista una straordinaria popolarità anche al di fuori della comunità scientifica, grazie a numerose apparizioni televisive e al successo di alcuni dei suoi saggi come Dal Big Bang ai Buchi Neri, breve storia del tempo o L'universo in guscio di noce. Muore nel 2017. Grazie a tutti.